Buongiorno Marse, l'ho già bevuto, mangiato, quanta cacca, uno va a Marco da Valteria per Tartufo e poi gli altri da compagnia, uno in Germania e uno in Svizzera. Arrivo, arrivo, arrivo. A lui dobbiamo tagliare i denti, eh. Caprette volante. E lei non è bersona già incinta. E si sente piccolo. Buongiorno Vicky. Io ho fatto accorto del cattivo. Vai da lei, la rassicuro? È bello, dai. Comunque questi biscotti alla carota sono buoni. Ma che mammone bello che hai? E qui, sono 900 kg di cavallo. Sono i miei cagnolini un po' più grandi. Buongiorno. Ciao, Anos. Ciao. 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 Ciao.